I sindacati Cisle Funzione Pubblica di Agrigento Caltanissette e Denna, Flaica Cub Provinciale, Wiltemp e Comsals Nalb Provinciale uniscono ancora una volta le proprie forze per sostenere i lavoratori di Pian del Lago. Gli stessi infatti protestano con un sit-in davanti al centro di accoglienza a causa della mancata erogazione degli stipendi da febbraio, così come raccontano. Ciò che preoccupa inoltre i sindacati è il futuro di questi lavoratori. Che oggi facciamo un'assemblea sit-in per il mancato pagamento di quattro stipendi, quindi febbraio, marzo, aprile e maggio, che non è cosa da poco. I lavoratori non sono nelle condizioni, ma non solo loro, chiunque si dovesse trovare al loro posto di sostenere le proprie famiglie, quattro mesi di ritardo. Ma c'è il problema del procedimento di licenziamento. Domani abbiamo l'ultimo incontro decisivo. La condizione è che non ci sono più ospiti, non c'è, non è più reale. Gli ospiti ci sono, sono circa 300, non si capisce perché si mantiene ancora il procedimento per il licenziamento. C'è in pericolo 18 famiglie su 24, ma questo territorio non ce lo può permettere, noi non lo possiamo permettere. Quindi chiediamo di incontrare tutti, la deputazione, il sindaco, possibilmente a un tavolo prefettizio. La gente ormai è al disastro più totale a livello economico. Non percependo, non riesce più a vivere, non riesce più a dare un sostentamento alle famiglie. non si riesce più nemmeno ad avere quella quiete, quella serenità che dovrebbe avere ogni lavoratore in quanto come diritto. Volevo dire un'altra cosa. Volevo ringraziare innanzitutto anche la prefettura che si è messa a disposizione, delle organizzazioni sindacali, vicine alle organizzazioni sindacali. non ci lascia mai soli. Volevo anche ringraziare la Croce Rossa. Perché dico la Croce Rossa? Perché è stata presente nel momento in cui si è stata interpellata nel dare un sostentamento non solo economico, ma per dare una mano ai lavoratori che ne avessero necessità. Intanto abbiamo contattato telefonicamente la società interessata che si occupa del servizio, ma rimaniamo ancora in attesa di un'eventuale replica. Grazie a tutti.